L'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme accolto dal popolo in festa in una giornata però che anticipa i giorni della sua passione. La chiesa di Brindisi inizia alle celebrazioni della fase più intensa della vita cristiana con la tradizionale benedizione delle palme preseduta presso la Basilica Cattedrale dall'Arcivescovo Domenico Caliandro che ha invitato a vivere questi giorni cogliendo l'occasione delle restrizioni per riscoprire il profondo significato di queste giornate. Una piccola consiglio, miei amati figli, questa settimana lasciamo il frastuono, lasciamo le distrazioni, no? Viviamola nel silenzio, nel raccoglimento. Quando abbiamo un po' di tempo riprendiamo il Vangelo e leggiamo la passione che ci ha raccontato San Marco. Fermiamoci, contempliamo Gesù nelle sue piaghe, nelle sue sofferenze, nel suo sangue, troveremo la nostra pace.